Si sente parlare spesso di pazienti antisociali, di sociopatici e di psicopatici. Spesso se ne parla in contesti criminologici o ancora più spesso a margine di eventi di violenza o abusi che ormai devo dire cospargono la cronaca a cui assistiamo quasi ogni giorno. In realtà potremmo quasi dire che esistono dei veri e propri filoni narrativi e cinematografici proprio basati su personaggi che possiedono caratteristiche di personalità antisociale, sociopatica o psicopatica. Gli esempi potrebbero essere centinaia. In realtà, come spesso accade, di questi temi ne parlano sempre tutti tranne i professionisti che queste persone le vedono realmente e soprattutto hanno il mandato di gestirle in contesti medico-legali spesso molto difficili oppure si ritrovano a dover produrre perizie e considerazioni a margine di contesti di legge che, vi garantisco, sono molto complicati. Forse voi che mi ascoltate non lo sapete bene, ma noi psichiatri siamo spesso incaricati da colleghi del pronto soccorso, ad esempio, oppure da giudice, da magistrati a farci carico della gestione di persone che, in concomitanza di crimini o di gravi alterazioni del loro comportamento, presentano delle caratteristiche di tipo antisociale, psicopatico o sociopatico. E vedremo tra un pochino quali sono le differenze e come mai si utilizzano questi tre nomi. Vi anticipo come potete immaginare che quello di cui vi sto parlando non è mai un lavoro semplice, che spesso dietro a queste persone, le persone che hanno diagnosi di psicopatia e agli eventi drammatici che sono spesso in grado di generare, si nascondono alle volte anche altre condizioni psichiatriche. In che senso direte voi? Allora, faccio proprio una piccola premessa che poi approfondio dopo. Vi garantisco che io personalmente, abbastanza frequentemente, ho dovuto riconsiderare e cambiare la diagnosi di antisocialità o di psicopatia, che dir si voglia, che mi veniva in qualche modo all'usa, suggerita dall'inviante del caso, no? Con una sorta di, anche un po' di sicurezza e anche, lascio vi dire, un pochino di scazza. Ecco, ho dovuto, alle volte, cambiarla con altre condizioni psichiatriche, no? Come ad esempio disturbo bipolare, l'ADHD o altre forme di neurodivergenze, ad esempio dello spettro autistico, che si trovavano in condizioni di forte disadattamento. Edi, per loro, lo spettro autistico, sappiamo che non si tratta di casi clinici o di patologie, in qualche maniera a priori, però lo spettro autistico e molte neurodivergenze possono disadattarsi in condizioni specifiche. Inoltre, bisogna dire che, anche, che spessissimo in questi contesti esiste la comorbidità con l'utilizzo di sostanze, che rende tutta la situazione ancora più complessa da valutare. Insomma, è ovvio che stiamo parlando di un lavoro davvero difficile. E questa difficoltà della psichiatria permane nel tempo, dura da decenni, da forse anche più di decenni, nonostante da alcuni punti di vista i pazienti antisociali siano in realtà molto studiati, abbiano ricevuto molta attenzione, specialmente negli Stati Uniti, anche per ragioni banalmente connesse con il loro potenziale, chiamiamolo di disturbo sociale e di possibile connessione con gesti criminali. Questo è ovvio. Proprio per queste ragioni hanno ricevuto attenzione epidemiologica, molti scienziati si sono spaccati la testa con il disturbo antisociale di personalità. Ma c'è anche il problema, non da poco, connesso ai pazienti affetti dal disturbo antisociale di personalità, psicopatia o sociopatia, poi fra un pochino vedremo perché di queste tre parole. Dicevo c'è il problema, non da poco, che noi clinici abbiamo quando abbiamo il sentore della presenza di tratti antisociali o sociopatici o psicopatici in persone che ci vengono sottoposte. Perché è un problema? Perché spesso lo psichiatra tende a scappare. E forse perché sappiamo sin da subito che avremo a che fare con persone molto problematiche, spesso pericolose, spesso casi con cui non riusciremo a sviluppare empatia e relazione, con persone che avranno la tendenza a utilizzare la menzogna e la manipolazione come stili relazionali prevarenti e anche poi, diciamolo molto banalmente, per il rischio oggettivo di ingaggiarsi in relazioni quasi sempre molto problematiche. Questo vale la pena sottolinearlo, nessuno psichiatra è tranquillo quando riceve una telefonata dicendo vorrei che valutassi una persona con queste caratteristiche. Termini come sociopatico e psicopatico antisociale in psichiatria purtroppo sono associati tradizionalmente ad una bassa probabilità di essere efficaci nel processo terapeutico. Spesso anche i migliori professionisti falliscono, ahimè. E tra parentesi sono da sempre, da decenni, sono in auge discussioni circa il fatto se queste persone dovrebbero essere giudicate semplicemente dei criminali o dei devianti oppure dei pazienti, no? Decidere se stanno in qualche maniera dentro o fuori dalla psichiatria. E questa discussione che vi garantisco è presente in convegni, in ambiti medico-legali, in pronto soccorso, in mille ambiti della psichiatria è una discussione su cui, diciamo, ci si accapiglia e che ha delle conseguenze poi sul lavoro, chiamiamolo, pratico nella quotidianità. In realtà dobbiamo partire con calma e prudenza, come sempre quando si è in ambito psichiatrico, iniziando a dire chiaramente che termini come antisociale, psicopatico e sociopatico di fatto definiscono delle persone spesso molto diverse tra loro e che altrettanto spesso non solo generano sofferenza negli altri ma anche loro stessi soffrono e alle volte anche molto e che entro certi margini alcuni di loro possono senza dubbio essere aiutati. E quindi potremmo dire che noi psichiatri, come medici, non dovremo sbilanciarci troppo in giudizi di valore ma accertarci se è possibile fare qualche cosa e soprattutto in che contesto e ancora di più a quali condizioni. D'accordo? Perché anche in questo caso, salvo condizioni in cui si sviluppano crimini, abusi, violenze gravissime, anomali di comportamento, insomma, se ci arrivano persone che hanno appena distrutto i negozi, picchiato gente, fatto i più grandi casini della terra, beh, bisognerà in qualche maniera intervenire alle volte anche in maniera, diciamo, obbligata. Però, prima di aiutare qualcuno, anche in questo caso, bisogna sempre porsi la domanda zero che dovrebbe riguardare tutte le professioni di aiuto, ovvero la domanda se la persona davanti a noi vuole effettivamente essere aiutato. In poche parole, se il nostro aiuto è richiesto in qualche maniera, insomma, esplicitamente o anche implicitamente, ma una qualche forma di fragilità che ci viene proposta e sulla quale ci viene richiesta un'azione lenitiva deve esserci. D'accordo? Ma a questo punto cerchiamo di capire meglio questa questione dell'aiuto rivolto al paziente antisociale. Magari facciamolo con un esempio, tanto per capirci meglio. Esempio, molto spesso i pazienti, cioè, nella psichiatria, chiamiamola vera, nella cosa reale, al di là dei libri, dei video di gente che non ha mai visto un paziente, vero, intendo, spesso i pazienti antisociali si vedono molto fugacemente, spesso in sede di pronto soccorso, oppure portati dalle forze dell'ordine, oppure in tribunali. E in tutti questi contesti ci viene chiesto, semplicemente, direi l'impossibile, curarli addirittura, o valutarli, che è comunque un problema, in tempi brevissimi, senza il consenso, senza la collaborazione, oppure ci viene chiesto di fare qualcosa, senza poter quasi mai, neppure contare su di un'equip adeguatamente formata, che ne possa gestire tutte le dimensioni biopsicosociali. E se la questione dell'equip, della creazione di un gruppo che agisca in maniera sinergica, è un problema grande in ogni ambito della psichiatria, in questo caso è addirittura un problema chiave, d'accordo? Perché non si può immaginare che uno psichiatra, alle tre di notte, sia efficace davanti a una persona urlante, magari drogata, che viene portata dalle forze dell'ordine, che sta facendo un gran casino, e non viene richiesto di risolvere la questione. Quindi di risolvere un intorno biopsicosociale in una mezz'oretta di una consulenza. Siamo d'accordo che questa è un'impresa impossibile, che non andrebbe neanche proposta probabilmente ad una persona, se la situazione è così grave, andrebbe fermata, addirittura per una forma, chiamiamola di legge, che non includa solo l'elemento medico, ma anche l'elemento proprio criminologico, l'elemento, chiamiamolo, medico legale, insomma qualche cosa che sottragga lo psichiatra da un carico così grosso. Lo psichiatra come gli stessi medici del pronto soccorso o altri operatori della salute. Ma, ripeto, questo è forse un problema che è ancora un po' non è acerum, ma addirittura merita una riflessione più approfondita da parte di noi stessi i psichiatri e delle istituzioni che lavorano nell'ambito della sicurezza e della chiamiamo della sicurezza pubblica. Ma al di là delle difficoltà che questi pazienti possono generare in qualche modo in noi psichiatri, beh, diciamo che oggi semplicemente vorrei provare a spiegarvi con una certa accuratezza e spero chiarezza che cosa possa essere questo disturbo antisociale di personalità e in che maniera sia storicamente anche associato al concetto di psicopatia e di sociopatia e quindi iniziamo con ordine. Per prima cosa diciamo un pochino di storia. Allora, i primi lavori pioneristici di questo tema sono di Harvey Clackley e riportavano prevalentemente il termine psicopatico per definire persone con scarsa empatia e predisposte ad agire in modo tale da non preoccuparsi delle conseguenze di sofferenza e di danno nei confronti degli altri. D'accordo, spesso si trattava di persone peraltro studiate nel contesto carcerario in cui Clackley aveva identificato dei tratti chiamiamoli di personalità specifica al di sotto di quella che lui stesso chiamava una maschera di pseudonormalità. Era un pochino questo l'elemento tipico del lavoro di questi lavori pioneristici. Poi successivamente venne utilizzato come evoluzione il termine sociopatico anche a delineare un altro clima nel campo della ricerca medico-psichiatrica. il sociopatico sottolineava le origini in qualche maniera sociali piuttosto che psicologiche e strutturali delle caratteristiche di queste persone che effettivamente potevano essere potenzialmente pericolose e dannose per la società civile. Si introduceva il germe del pensiero che le caratteristiche intrinseche a questa persona fossero figlie della società stessa e che questi elementi sociopatici fossero dei figli dei genere di una società che comunque al suo interno comportava degli elementi di malattia. Poi sul DSM 2 iniziò ad apparire l'espressione personalità antisociale è un po' l'anticamera e poi a seguire sul DSM 3 si delineò con maggiore precisione il disturbo antisociale di personalità e a quell'epoca pensate che da un punto di vista epidemiologico si poteva valutare che se si applicavano i criteri del DSM 3 alla popolazione presente in carcere circa il 60-80% soddisfaceva i criteri per il disturbo di personalità antisociale e questo era un problema e già allora ci si iniziava a domandare se queste persone andassero punite oppure curate e se curate quale fosse il costo in termini chiamiamoli umani e di welfare per curarle no? Insomma diciamo che fra punire e curare stiamo parlando di due cose piuttosto diverse ecco quindi il problema di che diamine farne di queste persone era fin da subito molto coccente e attanagliava la mente degli psichiatri nel corso degli ultimi anni il termine psicopatico benché appunto ripeto si stia utilizzando disturbo di personalità antisociale il termine psicopatico è tornato ad avere una certa popolarità come definizione diagnostica che implicherebbe particolari caratteristiche psicodinamiche biologiche di elevata gravità che non vengono specificate bene che non trovano riscontro per così dire nei criteri del DSM 5TR l'attuale manuale diagnostico statistico delle malattie mentali in particolare i tratti della grandiosità la forte spregiudicata manipolatorietà e il fortissimo disequilibrio narcisistico inoltre tradizionalmente l'individuo psicopatico si mostra ancora più refrattario alla possibilità di sviluppare una qualche forma di attaccamento emozionale questo è un punto importante incluso nell'elemento della psicopatia ad esclusione chiamiamolo di interazioni di tipo sadomasochistiche fondate sul potere e che spesso rappresentano la forma che il loro amore in qualche maniera assume che il loro attaccamento anomalo assume comunque al di là di questa considerazione che meriterebbe davvero di essere molto ampliata vediamo che Robert Hare ha stimato che una percentuale molto elevata sino al 50% dei disturbi antisociali di personalità diagnosticati secondo il DSM-5 presenterebbe in realtà anche i gravi tratti della psicopatia ripeto al di là di quelli sono i criteri del DSM-5-TR ma comunque che cosa dice ad oggi il DSM-5-TR sul disturbo antisociale di personalità quali sono questi criteri che vanno presi in considerazione allora per essere sintetici vediamo che per essere molto sintetici questi pazienti devono presentare almeno tre delle caratteristiche che adesso vi illustro allora prima di tutto l'incapacità di conformarsi alle regole sociali la sostanziale non aderenza il rifiuto della regola in sé del dogma dell'obbligo del vivere civile chiamiamolo il secondo punto è la generica non mi viene altro termine per definirla la disonestà ovvero la predisposizione alla menzogna alla truffa e cose di questo genere un altro elemento il terzo elemento è quello dell'impulsività più o meno marcata il quarto elemento è l'irritabilità che può caratterizzare molto velocemente queste persone un'irritabilità marcata che poi può sfociare nell'aggressività in un contesto specifico quinto punto è la non curanza della propria sicurezza e ovviamente neanche quella degli altri quindi la tendenza a fare cose pericolose per se stessi e per gli altri sesto punto è quello della irresponsabilità e il settimo punto è la sostanziale assenza di rimorso e chiamiamola di revisione critica di eventuali azioni negative che vengono fatte ecco questi sono proprio velocemente i sette items che andrebbero presi in considerazione inoltre si presume che persone di questo tipo abbiano iniziato a manifestare questi tratti diciamo in maniera precoce precocemente nella loro vita e infatti si può immaginare che possono aver avuto un disturbo della condotta chiamiamolo anzi si chiama così quando una persona è minorenna un disturbo della condotta durante l'adolescenza e che tutto questo abbia generato in qualche maniera problemi di vario tipo un'altra cosa molto importante a cui vi accennavo prima è che questo genere di comportamento non si dovrebbe manifestare mai teoricamente mai durante fasi acute di altre patologie come ad esempio dicevamo un periodo di disturbi polare oppure l'ADHD e questo è appunto una questione piuttosto fumosa su cui ci sono odierna mente dei dubbi come vedremo tra poco rispetto all'epidemiologia chiamiamola del disturbo antisociale di personalità stretto vediamo che i dati più moderni ci dicono che abbia una prevalenza lifetime del 3,6% nella popolazione degli Stati Uniti dove hanno attuato studi epidemiologici molto molto specifici e di conseguenza si può ritenere che questo dato possa essere in parte esteso e estrapolato a tutto il mondo occidentale per una sorta di analogia di usi e costumi che abbiamo e di cultura le persone con questo disturbo si ritrovano più comunemente nelle aree urbane in particolar modo nelle aree urbane periferiche impoverite cui è presente deriva sociale e molti di loro interrompono moltissimi hanno nella loro storia l'interruzione delle scuole secondarie prima del diploma in genere si tratta di un progressivo scivolare della loro vita verso il basso almeno che questa antisocialità non venga in qualche maniera messa a frutto con appunto con mestieri non particolarmente affini alle regole e alle leggi ecco la tendenza quindi spesso a guadagnare a perdere denaro in maniera ciclica finché poi non scoppiano quando raggiungono la mezzetà quando l'energia diminuisce spesso presentano quadri di dipendenza a sostanze cadono nell'alcolismo utilizzano droghe che diventano fisicamente debilitati proprio perché l'energia che può mettere in qualche maniera frutto in maniera perversa è anomala a queste loro caratteristiche e questa loro predisposizione anche all'attività criminosa ecco bene mancando questa energia le cose peggiorano e in qualche maniera la loro vita va alla deriva eh infine è anche importante sapere che i pazienti con problemi antisociali sono prevalentemente di sesso maschile o per meglio dire con un rapporto maschi-femmine di circa 4 a 1 e sicuramente bisogna anche sottolineare come i casi di antisocialità o di psicopatia femminile siano più tendenti al versante psicopatico mascherato con forti componenti magari manipolative no? con la tendenza ad essere fortemente istrioniche rispetto ai casi maschili e con la tendenza a agganciarsi in maniera ehm di sfruttamento no? diciamo ad altre persone questi perlomeno sono i dati che vengono riportati maggiormente in letteratura personalmente non ho una grande esperienza a riguardo per meglio dire ho un'esperienza limitata dalla mia attività clinica e ripeto è sempre meglio affidarsi a dati e a statistiche di più ampio respiro eh a questo punto domande importanti ma quali sono le cause di questo disturbo e in che maniera origina e si sviluppa? forse in questo senso andrebbe nuovamente solenato che molte volte l'antisocialità sia più un funzionamento che un disturbo vero e proprio no? modernamente il concetto di antisocialità come disturbo lo dicevo poco fa viene spesso messo sotto attacco il fatto che sia un reale disturbo chiamiamolo autonomo primario originario abbiamo accennato prima che un funzionamento antisociale si può osservare in molte fasi del disturbo bipolare nella ciclotemia in alcune forme dell'ADHD e anche lo ripeto in alcune forme in alcune manifestazioni di disadattamento dello spettro autistico potrebbe essere che il funzionamento antisociale sia addirittura sempre una manifestazione trasversale di un altro disturbo maggiore di una qualche neurodivergenza beh la risposta non c'è ad oggi non è chiaro questa questione anche se alcuni sospettano che possa essere così nonostante questo sospetto chiamiamolo della psichiatria moderna e della criminologia moderna esistono però anche delle componenti chiamiamole psicologiche psicoanalitiche profonde che renderebbero ragione e motivano una certa percentuale di persone che possono avere un funzionamento antisociale e psicopatico definiamolo di tipo originario se volete primario come disturbo in particolare abbiamo soggetti che nascono in famiglie con almeno un genitore antisociale a cui diciamo ispirarsi e da cui acquisire paradigmi in questo senso oppure in famiglie nascono in famiglie in cui sono presenti sono manifestati maltrattamenti gravi ed abusi di tipo fisico sessuale e cose di questo genere da un punto di vista neurobiologico è sicuramente interessante rilevare che in molti soggetti antisociali sembrano esserci dei problemi ad esempio sembra essere presente un polimorfismo funzionale del gene codificante per l'enzima monoamminosidasi che è implicato nel metabolismo di diversi neurotrasmittitori poi abbiamo altri studi molto interessanti di neuroimaging che hanno rivelato una bassa attivazione dell'amigdala in risposta a espressioni facciali di paura quindi l'aspetto della scarsa empatia potrebbe essere connesso a questo chiamiamolo alterazione addirittura neuroanatomica in realtà poi ci sono molte altre evidenze della presenza di alterazioni neurobiochimiche neuroanatomiche nei soggetti con disturbo antisociale di personalità tutte da replicare a mio parere che comunque hanno portato a ipotizzare che possa essere addirittura manifestazione appunto specifica di qualche forma di neurodivergenza vera e propria di alterazioni dello sviluppo del cervello o se non proprio diciamo deficit appunto anomalie di sviluppo del cervello oppure conseguenze di altri disturbi psichiatrici ad alto impatto sull'encefalo sul funzionamento dell'encefalo come il disturbo da stress post-traumatico appunto bipolarismo ciclotimia di HD bene vediamo adesso ad un'altra domanda molto importante ci sono dei fattori predittivi di risposta o di predisposizione alle cure per questi soggetti c'è qualcosa che ci può far pensare che qualcuno di questi soggetti abbia voglia di essere curato voglia cambiare per dirla molto semplicemente beh qui le cose si complicano in realtà ancora di più in effetti la maggior parte di queste persone vivono le loro caratteristiche di personalità non viene da dire le loro neurodivergenze quasi come egosintoniche ovvero le ritengono normali le sentono alle volte addirittura come un vantaggio o un superpotere e forse addirittura le volte lo sono anche in una società come questa sebbene poi si ritrovino ad entrare in contrasto con il vivere civile con le regole e d'altra parte se nessuno si fa male mi viene da dire se tutto viene portato avanti in qualche modo nel rispetto alle altre persone può andare anche bene così e che spesso non è così in realtà poche volte le cose vanno così spesso si manifestano problemi problemi anche di un certo di una certa entità proprio problemi di legge intendo però al di là di questo possiamo vedere che in alcuni casi disturbi antisociali di personalità si possono anche o diciamo in comorbidità si possono anche manifestare dei sintomi chiamiamoli psichiatrici classici e in realtà le persone che possono giovarsi di maggiormente di trattamenti e che richiedono soprattutto spesso aiuto di loro spontanea volontà sono proprio quei pazienti che manifestano segni di ansia o di depressione o anche le volte di psicosi segni egosintonici di psicosi appunto egodistonici scusate perché è proprio questo il punto se sono presente sintomi egodistonici ovvero sintomi che vengono giudicati come estranei e che ci fanno stare male egodistonici bene a questo punto è più facile che una persona di questo genere chieda aiuto e si ritrovi in ambito psichiatrico e sarà diciamo l'abilità dello psichiatra a permettere un aggancio più generale magari partendo da questi sintomi per arrivare a qualche cosa che abbia più a che vedere con l'analisi e il trattamento del core del disagio di queste persone al contrario tutti quelli che hanno in analisi di molti episodi di problemi con la legge grandi o piccoli magari di detenzione problemi legali problemi con che ne so agenzie delle entrate guardia di finanza eccetera eccetera o di violenza verso terzi o addirittura di alterazioni cerebrali organiche che ripeto sono presenti beh in questi casi sarà molto difficile ottenere dei risultati terapeutici per lo meno secondo le vie classiche in un contesto in cui una persona chiede e riceve aiuto per finire la domanda da un milione di dollari ma quali sono questi interventi terapeutici forse se mi seguite da un po' di tempo immaginerete già la risposta perché si tratta prevalentemente di una psicoterapia diciamo molto orientata sul versante psicodinamico spesso anche ad alte intensità nella speranza che la persona riesca a sviluppare attaccamento e transfert nei confronti del terapeuta e questo non è così infrequente e ovviamente la possibilità di ottenere un contro transfer positivo da parte del terapeuta stesso cosa non anche quella così frequente perché richiede grande consapevolezza grande preparazione grande auto analisi e questo contro transfer del terapeuta diciamo andrà rigorosamente controllato e mi viene da dire supervisionato rigidamente per il frequentissimo rischio di agiti da parte del terapeuta stesso insomma sto parlando di una vera sfida per qualsiasi psicologo o psichiatra e forse anche per queste ragioni che spesso i terapeuti ahimè scappano non se la sentono di affrontare questi casi chissà forse in futuro potrebbe esserci questo è una considerazione estemporanea ma che ha una base di realtà rispetto al fatto di quello che sto vedendo nell'ambito scientifico internazionale chissà che in futuro un aiuto potrebbe arrivare dalla psichedelia dal rinascimento psichedelico della psichiatria ma qui il terreno sicuramente è ancora molto acerbo e tutto da esplorare ma sono convinto che un contributo potrebbe arrivare anche da quest'ambito chiamiamolo molto nuovo antico ma in realtà molto nuovo della psichiatria quindi la medicina psichedelica quindi con enteogini l'utilizzo di enteogini nel percorso psicoterapeutico che dire di altro certamente vale la pena sottolineare come gli aspetti preventivi siano l'elemento chiave preventivi direte voi sì esatto preventivi io sono un grande fan della prevenzione in psichiatria cosa di cui pochissime persone parlano ma io personalmente ho molte letture ho molti studi ho avuto modo di confrontarmi con molte persone che credono ferma ben più autorevoli di me che credono fermamente alla possibilità di attuare una prevenzione in psichiatria addirittura nell'ambito del disturbo antisociale di personalità infatti molte ricerche mostrano come l'ambiente di crescita del bambino possa avere un impatto elevatissimo e avere molto a che fare con l'espressione diciamo addirittura di particolari geni la modulazione di particolari geni e di conseguenza di tratti personologici e tutto questo indica l'opportunità assoluta e la possibilità di interventi preventivi lavorando sul tessuto sociale gli adulti con disturbo antisociale di personalità e o psicopatia che dir si voglia rappresentano oggettivamente un enorme rischio per la società e costituiscono non solo una sfida ma costituiscono un obbligo per noi psichiatri di ragionamento sulla prevenzione perché quando poi le persone arrivano in pronto soccorso alle tre di notte accompagnate dalla polizia urlanti piene di droga beh i giochi sono fatti forse la nostra migliore prospettiva in questo campo si associa alla prevenzione quindi a una diagnosi precoce ripeto capire bene di che disturbo si tratta ma anche attraverso interventi sulla famiglia e sull'intorno socioambientale senza dubbio è così la medicina ha una radice biopsico sociale anche problemi di questo genere non dico che siano facili da realizzare ma probabilmente è molto utile perché sono interventi di Provenza Arbomotid perché affrontano il problema alla radice e d'altra parte non abbiamo altra soluzione bisogna lavorare prima che certe cose si manifestano in psichiatria ma come in molti altri disturbi oncologia cardiologia e chi più ne ha più ne metta e quindi anche in questo caso la psichiatria ma mi viene da dire tutta la medicina si incrocia con la politica con gli interventi sociali con il welfare e cose di questo genere è proprio così e c'è poco da fare anche in queste situazioni estreme le cose stanno sempre così se generi se delle persone soffrono come diceva il buon vecchio Auden poi faranno soffrire a loro volta probabilmente che dire di altro ci sarebbero moltissime cose raggiungere ma per adesso mi fermo qui dato che volevo fare un contenuto il più snelle informativo possibile aspettando poi ovviamente vostre domande specifiche cui magari ci confrontiamo giù oppure magari rispondo con altri video in realtà credo di essere già andato abbondantemente lungo per cui è meglio che mi fermo ora qua non leggo bene il monitor la fondo della telecamera ma credo che siamo intorno alla mezz'ora quindi è già il doppio di quello che avevo immaginato bene in ogni caso spero che anche oggi sarete d'accordo con me che si tratta di un tema molto interessante misterioso affascinante al confine con filosofia medicina psichiatria psicologia criminologia insomma e spero che proprio per questo lo troverete interessante e spero di avere una discussione interessante che è giù nei commenti e mi raccomando fatelo nell'apposito spazio sia che state su youtube o su spotify se state ascoltando il podcast lo psiconauta e questi episodi così lunghi forse sono molto utili da essere ascoltati in podcast che dire ancora un consiglio prima di salutarvi mi raccomando iscrivetevi subito alla mia newsletter tramite la quare resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni molto utili e esclusive che non troverete da nessun'altra parte sempre sulla salute mentale psicofarmaci stile di vita mente umana benessere longevità benessere in generale tutte cose che hanno a che vedere con la medicina le neuroscienze e temi di questa cosa quindi guardate in descrizione il link è qua sotto e ah anche perché cosa molto importante se in futuro riprenderò a fare cosa che mi sta iniziando a balenare nella mente nel prossimo anno a fare consulti e visite online lo segnalerò proprio tramite la newsletter per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me iscrivetevi adesso eh ok per adesso è tutto datemi un like iscrivetevi anzi abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione acquista avete acquistato secchiù il mio ultimo libro spero di sì solo su Amazon cercate di avere rosso secchiù e dopo aver acquistato il libro come sempre ci si rivedrà presto per parlare di un nuovo argomento grazie a tutti grazie a tutti